Il pirata della strada è stato identificato grazie alle telecamere. L'incidente è avvenuto sabato sera in zona Filippini. Ci spiega tutto Marco Menini. Sarebbe un 59enne veronese responsabile dell'incidente di sabato sera in via San Pietro in Carnario, in zona Filippini. Un'auto aveva urtato una bicicletta fuggendo via senza prestare soccorso al ciclista. Un cittadino straniero che in seguito all'incidente ha riportato una prognosi di 50 giorni. L'auto coinvolta era stata abbandonata in Basso Acquare forse dopo l'incidente ed è stata ritrovata questa mattina dalle forze dell'ordine che sono riusciti ad arrivare al veicolo e di conseguenza al proprietario grazie alle registrazioni della videosorveglianza e ad alcuni frammenti dell'auto trovati sull'asfalto. I pezzi sarebbero riconducibili ad un'onda CRV prodotta tra il 2007 e il 2009, un veicolo grigio secondo la testimonianza del ciclista. Solo grazie a queste informazioni la polizia municipale è riuscita ad identificare l'auto mentre passava in breccia a cappuccini proprio quella sera. Ora l'uomo è stato segnalato all'autorità giudiziaria ed è accusato di omissione di soccorso. Manager ma anche uomo innamorato dello sport. Quest'ora Mario Fertonani è ai vertici della sede scaligera dell'azienda Glaxo ed ex dirigente della scaligera Basket. Oggi i funerali. Il servizio è di Giorgia Preti. Manager ma anche uomo di sport. Questo era Mario Fertonani, ex presidente italiano della casa farmaceutica Glaxo ed ex dirigente di scaligera Basket, che si è spento sabato 13 gennaio all'età di 85 anni, dopo una lunga malattia. Questa mattina si sono svolti i funerali nella chiesa di San Nicolò all'Arena, dove molte persone si sono riunite per porgere un ultimo saluto al manager mantovano. Fertonani era sempre stato amante della pallacanestro, sport che aveva praticato in prima persona negli anni 60. Ed è grazie a questa passione che, dopo essere diventato il primo presidente italiano della casa farmaceutica britannica Glaxo, ora Glaxo-SmithKline, negli anni 80 aveva portato il marchio Citrusil a sponsorizzare la squadra veronese. Da allora scaligera Basket era stata presa sotto l'ala del manager, mantovano di nascita ma veronese d'adozione, che tra il 1983 e il 1991 aveva portato la squadra giallo-blu a macinare successi, fino ad arrivare al debutto in A1 e alla vittoria della Coppa Italia. Uniti al cordoglio per la scomparsa di Fertonani, anche Gianluigi Pedrollo, presidente di Scaligera Basket, e la squadra stessa, che ha voluto ricordare l'ex dirigente con un minuto di silenzio prima della gara di domenica scorsa. Nuovi donatori e nuova sezione FIDAS alle scuole, alle stimate di Verona. La neonata costola di FIDAS conta una cinquantina di associati, tutti studenti e studentesse maggioranni dei licei. A scuola si impara anche la solidarietà. Ne è un esempio il liceo all'estimate, che da questo mese è attivo come ottava sezione scolastica di FIDAS. La neonata costola dell'associazione di donatori si attesta come la settantottesima sezione veronese ed è presente in altre sette scuole. L'iniziativa nasce dall'entusiasmo di Alberto Zago, docente di storia, filosofia e religione del liceo, nonché donatore di sangue, con il supporto della biologa Maria Cristina Fontanarosa. I ragazzi hanno interloquito molto, hanno partecipato, erano entusiasti e con nostra somma sorpresa abbiamo riscontrato un risultato da un punto di vista numerico eccellente perché complessivamente gli aspiranti donatori sono 44. L'obiettivo ora è quello di creare un circolo virtuoso. Questo numero 44 aspiranti donatori ci permette di creare una sezione FIDAS. È sufficiente per creare una sezione interna che nei nostri auspici dovrebbe creare un circolo virtuoso. Cioè di anno in anno dovremmo creare la struttura per promuovere questa campagna di sensibilizzazione a scuola e per cercare di intercettare le nuove generazioni di 18 anni che ovviamente si accavalano di anno in anno e indirizzarle, ecco questa è la speranza, in quest'opera di volontariato per la donazione di sangue. Un'esperienza che gli studenti non si sono lasciati scappare. Il fatto di donare e quindi di poter salvare in qualche modo delle vite mi ha appunto ispirato. Ho deciso di donare perché a scuola mi hanno fatto una testimonianza e la cosa mi ha incuriosita e grazie a queste testimonianze ho capito che donando il mio sangue posso salvare una vita quindi è un atto di solidarietà. Vasco Chiesa Nuova prende lezioni di turismo con uno sguardo al futuro. Si è svolto questo pomeriggio nella sala meeting dell'albergo Frizzolan nel centro del paese montano un seminario internazionale dal titolo Esperienze di collaborazione per il successo dell'azienda turistica organizzato da altalesinia.com nell'ambito della formazione garantita per il Fondo Sociale Europeo in sala albergatori, ristoratori, titolari di B&B e di tante altre strutture ricettive che hanno ascoltato gli interventi di quattro professionisti del settore turistico e dell'accoglienza all'obiettivo principale è un miglioramento generale dell'offerta orientato in particolare alla clientela estera. Da oggi il parco giochi di via Cesare Abba è dotato di una nuova telecamera di videosorveglianza per la sicurezza dell'area tutela dei bambini e dei ragazzi che lo frequentano. Questa è la 51esima telecamera di videosorveglianza installata dal comune per garantire il decoro delle aree pubbliche che ha sottolineato l'assessore alla sicurezza Polato che in questa occasione ha anche annunciato un progetto pilota per dotare le quasi 300 telecamere cittadine di un software all'avanguardia con sensori che percepiscono suoni e movimenti che poi ovviamente verrebbero veicolate in un'unica centrale visibile alle forze dell'ordine locali. Torna giovedì questo a Verona Fiera il Motorbike Expo decima edizione per il salone dedicato al motociclismo in tutte le sue svariate forme quest'anno la Kermess durerà un giorno in più rispetto al passato. E con questo è tutto TG Verona Network torna domani.